riprendo l'aria nostra che è l'unico posto dove non c'è il sole in faccia che lì vedi c'è il sole che spunta e abbiamo proprio il sole nelle panchine stiamo provando questo ragazzo nuovo tanù gran fisico comunque siamo tipo al ventesimo siamo 2 a 0 per noi amichevole i portieri sono tutte e due i nostri perché a questa squadra gli mancava il portiere e gli abbiamo dato i due portieri nostri primo tempo il nostro diciamo primo portiere ha fatto con loro con gli altri ha fatto due o tre grandi interventi lì c'è lì alle Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rigore per noi al novantesimo, siamo 5 a 3, Costarelli contro il nostro portiere Racuglia, gol 6 a 3.